La FAICISL è in piazza insieme ai studenti, insieme ai lavoratori e le lavoratrici e pensionati perché ritiene che sia utile fare un focus di attenzione sulla questione del clima, sulla questione della tenuta del territorio, sulla questione del dissesto idrogeologico e quindi occorre esserci per dare un segnale che la gente vuole un cambiamento di tendenza di fronte e vuole che le questioni siano risolte anche con strumenti idrastici.